Meghan Markle, Harry la umilia in pubblico per la seconda volta Meghan Markle completamente ignorata da Harry durante la partita di baseball Ancora una volta il principe sembra non sopportare più la moglie. È crisi? Meghan Markle è in crisi con Harry. Il principe sembra ignorarla completamente alla partita di baseball I duchi del Sussex sono apparsi a sorpresa per assiste al match tra i New York e i Boston Red Sox, sabato scorso a Londra La coppia è stata accolta con calore dalle squadre e ha ricevuto un tenarissimo dono per il figlio Archie, nato lo scorso maggio Nelle foto ufficiali, pubblicate anche sulla pagina Instagram, Harry e Meghan appaiono sorridenti, si scambiano sguardi languidi, si tengono per mano Insomma, appaiono innamorati come sempre Ma quando vengono colpi da obiettivi indiscreti, il loro atteggiamento è completamente diverso Seduti l'uno accanto all'altra sugli spalti, Meghan sorridente si rivolge a Harry, gli parla Lui però finge di non sentire, non la guarda e si intrattiene con altri Il principe non considera minimamente la moglie e pare umiliarla per la seconda volta Dopo che sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping Tech Color più volte le ha intimato secchemente di voltarsi e di guardare avanti Ad accorgersi di questo repentino cambiamento sono gli stessi sudditi che, come riporta il Daily Mail? Sui social la freddezza di Harry, mentre Meghan con un sorriso di circostanza ingoia il boccone amaro Da quando è nato Archie, il principe sembra essere cambiato Non è più preguroso con Lady Markle, al contrario la tratta quasi con disprezzo Fonti vicine a Palazzo, riportano che a corte Meg è definita moglie laureata Nel senso che il suo matrimonio con Harry durerà solo tre anni, come un corso di laurea La prossima prova sarà al battesimo di Baby Sussex, il prossimo 6 luglio La prossima prova sarà al battesimo di Baby Sussex, il prossimo 6 luglio La prossima prova sarà al battesimo di Baby Sussex, il prossimo 6 luglio